Ha deliberato altra unità, anzi per acclamazione, per la credo seconda volta nella sua storia e come nella volta precedente si è stata tribunita la cittadinanza onoraria dell'intervento a tutti coloro che avevano combattuto la grande guerra e almeno del 1968 dato della delibera erano ancora in vita con la delibera dell'anno scorso in questo formale di intervento ha prodotto tutta la cittadinanza onoraria a tutti coloro che distintamente rispetto alla data della morte avevano combattuto la grande guerra. Tra questi ci sono circa 565 samminatesi che hanno perso la vita durante la grande guerra. Con Michele ci ha chiesto di poter fare una piccola cerimonia per obbedire ufficialmente a queste persone la cittadinanza onoraria dell'intervento per cui adesso in questi indagini ufficialmente faranno... Sì, inviterò anche a diretto Fumardi che se non c'era lui che cercava tutti i nomi quindi questa cosa che non si faceva. Bene, pietro... Tanti cittadini onorari, nomeriamo oggi insieme ai colleghi sindaco di Sabiniato anche questi vostri cittadini. Io devo ringraziare ulteriormente l'amico e tutti mi ringrazio perché questa è stata una sua prima idea di un ulteriore onore contro la città di Fumardi che non credo anche a Sabiniato. Applausi Francesco, sebbene anche lì ha fatto una foto... Grazie 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 a tutti.